Per me introdurre questo importante convegno mi dà l'opportunità di ringraziare gli organizzatori come è già stato fatto perché oggi si cerca di riflettere sul tema delle manifestazioni pubbliche in luoghi aperti, un tema sicuramente rilevante in seguito ai tragici eventi recenti e meno recenti avvenuti sia in Italia sia all'estero. Parliamo di spazi aperti che possono essere piazze oppure campi liberi comunque denominati ma più importante dei quali mi sembra la piazza che storicamente è stato il luogo in cui si è socializzato di più e quindi bisogna stare attenti a porre delle limitazioni all'uso delle piazze in quanto incidiamo dal punto di vista sociologico in maniera molto importante sulla nostra vita di tutti i giorni. Le riflessioni che si andranno a fare quindi riguardano le manifestazioni pubbliche negli spazi aperti che si distinguono in manifestazioni di spettacolo e manifestazioni di intrattenimento. Questa classificazione è stata effettuata da due circolari ministeriali, una dell'interno dell'82, la numero 52, e una delle finanze, la 165 del 2000, che così si esprimono. Lo spettacolo è caratterizzato dal concetto di rappresentazione, perciò riguarda l'aspetto statico del fenomeno di presenza di un fatto o di un avvenimento, quindi c'è una partecipazione passiva del pubblico. L'intrattenimento invece implica la partecipazione attiva all'evento e coinvolge attivamente il pubblico. Le attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo sono state storicamente oggetto di controllo e di disciplina da parte dello Stato, in quanto considerate attività pericolose e pertanto annoverate fra quelle che maggiormente possono assumere un rilievo ai fini della sicurezza pubblica. La disciplina normativa risale al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il Regio Decreto 773 del 31, e al successivo regolamento, il 635 del 40. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è un testo normativo di Polizia Amministrativa, emanato in un contesto storico in cui tra i principali obiettivi perseguiti dal Registratore vi era quello di consolidare le attività di Polizia e di vigilare su tutte le attività private suscettibili di assumere una connotazione politica. È indubbio tuttavia che gli strumenti di controllo sugli spettacoli e gli intrattenimenti previsti dal TULPS nel suo odierno aspetto determinatosi in seguito a modifiche legislative a interventi dalla Corte Costituzionale nonché a successivi interventi normativi siano rimasti funzionali alla salvaguardia dell'incolumità delle persone oltre che al mantenimento dell'ordine pubblico. Preordinate al mantenimento di un controllo pubblico sulle attività private sono le licenze o autorizzazioni imposte dal TULPS mentre altri strumenti, quali ad esempio le verifiche di agibilità, si legano principalmente a finalità di tutela della pubblica incolumità. Recenti fatti legati ad azioni criminali di tipo terroristico hanno determinato un cambiamento nell'approccio alla sicurezza, non più quindi intesa unicamente come insieme di misure e accorgimenti tesi a prevenire e minimizzare gli effetti dovuti al malfunzionamento di impianti e strutture ma anche come insieme di misure e accorgimenti tesi a prevenire e minimizzare gli impatti di azioni dolose. In altre parole, le misure di sicurezza riguardano sia gli aspetti di safety sia gli aspetti di security riferendosi col primo dei due termini a quel complesso di disposizioni volte a preservare l'integrità fisica delle persone da fatti accidentali derivanti da malfunzionamento degli impianti o delle strutture mentre con la seconda è quello di garantire i cittadini da comportamenti umani che possono turbare l'ordine pubblico. Si tratta quindi di un insieme di misure e di accorgimenti di sicurezza diversi ma che vanno a definire quella che oggi si chiama universalmente sicurezza integrata. Nel campo delle manifestazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento i soggetti principali individuati dalla legge come autorità pubblica di riferimento in ambito provinciale o locale per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini sono il sindaco e il prefetto. Ad essi si affiancano rispettivamente quali organi consulenziali in materia la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e il comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, COSP. La commissione di vigilanza esprime in particolare delle valutazioni indispensabili ai fini della verifica di agibilità, verifica che condiziona l'ottenimento della licenza per lo svolgimento di pubblico spettacolo ai sensi dell'articolo 80 del TURPS. Gli articoli 68 e 69 del TURPS impongono infatti la licenza per lo svolgimento dei pubblici spettacoli può essere data se non prima che il luogo o il locale sia stato sottoposto a una verifica di agibilità da parte della commissione provinciale di vigilanza o locale di vigilanza. I compiti della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sono stati aggiornati nel 2001 con il DPR 311 e ha quindi innovato i compiti di questa commissione che sono in particolare quella di esprimere i pareri sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo o trattenimento o di sostanziali modifiche di quelli esistenti verificare le condizioni di solidità e di sicurezza e di igiene dei locali stessi e dell'impianto e indicare le misure e le cautele ritenute necessarie accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte o degli avvisi per il pubblico accertare anche avvallendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene ai fini dell'iscrizione delle giostre in un particolare elenco controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti stabilisce ancora la norma il DPR 311 del 2001 salvo quanto previsto dal regolamento TULPS per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma lettera E e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporani richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporani che si ripetono periodicamente e per le quali la commissione di cui è l'articolo 142 ha già concesso l'agibilità in data non inferiore a due anni il comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico è stato istituito dall'articolo 20 della legge 121 dell'81 è un organo di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni quale autorità di pubblica sicurezza a livello provinciale i locali di pubblico spettacolo e di trattenimento inoltre sono soggetti anche alle visite e ai controlli di prevenzione incendi quando si ha una capienza superiore a 100 persone le norme che disciplinano sinteticamente tutto quello che ho detto sono varie per quello che ci riguarda dal punto di vista strettamente tecnico citerò il decreto 18 il decreto ministeriale 18 marzo 96 il decreto ministeriale 19 8 96 ed inoltre il decreto legislativo 81 del 2008 che io penso che dovremmo tenere sempre da conto in qualsiasi attività noi ci troviamo a fare il primo decreto quello del 18 marzo riguarda l'esercizio degli impianti sportivi il campo di applicazione quindi riguarda gli impianti sportivi e per quello che ci riguarda io volevo citare l'articolo 6 di questo decreto ministeriale dice la capienza dello spazio riservato agli spettatori è dato dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi il numero dei posti in piedi si calcolano in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo destinata il numero dei posti a sedere è calcolato con una formuletta dice ancora la norma sono però ammessi posti in piedi negli impianti a chiuso con capienza fino a 500 spettatori ed in quelli all'aperto fino a capienza di 2000 spettatori vale la pena sottolineare che questo decreto è un decreto che riguarda gli impianti sportivi e quindi gli impianti dove in particolari situazioni vi possono essere turbolenze tra gli spettatori e quindi la norma ha agito in termini di prevenzione attraverso ad esempio la suddivisione in settori dal pubblico il decreto del 96 invece il 1908-96 quello per l'esercizio e la costruzione e la progettazione dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo ha come campo di applicazione i teatri, i cinematografi, i cinemateatri gli auditori e le sale convegno i locali di intrattenimento ovvero i locali destinati ad attrazioni varie le sale da balle e le discoteche i teatri tendi, i circhi i luoghi destinati a spettacoli viaggianti i luoghi all'aperto ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico quindi questo decreto ha nel campo di applicazione gli spazi aperti purché vi sia un luogo in cui vi siano spazi attrezzati con impianti destinati allo spettacolo e strutture destinate appositamente per il pubblico poi dice questo decreto che è un decreto tecnico dice sono esclusi dal campo di applicazione i luoghi all'aperto quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli o manifestazioni varie quindi il decreto dice attenzione che io mi occupo e quindi rientra nel mio campo di applicazione gli spazi all'aperto purché ci siano strutture destinate al pubblico e luoghi in cui vi siano le attrezzature destinate al pubblico spettacolo cosa dice ancora questo decreto nessuno spettatore posso stare nei passaggi esistenti nella sala nei locali che ho citato prima non sono consentiti posti in piedi se non in aree appositamente riservate purché siano rispettate le seguenti condizioni il numero di posti in piedi autorizzati sia fissato in ragioni di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati per la superficie all'uomo destinata inoltre dice in caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere uno sportivo la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata all'attività sportiva è consentita fino a un massimo di 20 spettatori ogni 10 metri quadrati quindi sono stato un po' veloce ma richiamo questi concetti sostanzialmente i due decreti che sono decreti tecnici di misura di sicurezza dicono io posso avere posti in piedi con una densità di affollamento di 3,5 persone a metro quadro mentre invece quando ho dei locali sportivi che utilizzo per attività di pubblico spettacolo la la densità deve essere di due persone a metro quadro ora sottolineo solo questo per quello che diremo dopo e per le relazioni che mi seguiranno la densità di affollamento lo dirò fra un attimo è uno degli aspetti che condiziona notevolmente diciamo le misure di sicurezza che vanno ad essere definite in questo tipo di ambito ora la norma non fissa non fissa per i luoghi all'aperto una densità di affollamento quindi lo fissa per le attività sportive destinate a pubblico spettacolo ma non fissa una densità di affollamento per luoghi all'aperto che vengono utilizzati per il pubblico spettacolo dopo i fatti di Manchester di Piazza San Carlo a Torino il Ministero dell'Interno che ha i sensi dell'articolo 1 della legge 121 dell'81 e Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza è intervenuto con diversi circolari in particolare quattro circolari firmate dal capo della Polizia Gabrielli dal capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Frattasi dal capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Giomi e dal capo gabinetto del Ministro dell'Interno Morcone con queste quattro circolari vengono ad essere indicate misure diciamo nuove per certi aspetti da attuare nei luoghi aperti dove si svolgono manifestazioni di pubblico spettacolo ora voglio sottolineare questo passaggio il Ministro dell'Interno quindi restosi conto che c'è una zona un'area che non è ancora disciplinata in maniera precisa da norme e che a causa di fatti che voi conoscete praticamente emergono come luoghi diciamo in cui ci possono essere preoccupazioni di sicurezza emana quindi delle direttive e nella sua potestà in mancanza di un supporto legislativo diciamo definito ora che cosa dice Gabrielli mi stanno facendo segno che devo chiudere Gabrielli nella sua prima circolare che è quella che più diciamo ha preoccupato i gestori stabilisce innanzitutto che ci deve essere un conteggio un monitoraggio delle presenze per definire la capienza del luogo ora la capienza del luogo è condizionata da vari elementi ma soprattutto da quella che è la capacità di deflusso delle vie che l'ingegnere Amaro chiama di allontanamento e la densità di affollamento densità di affollamento come sarà detto nelle altre relazioni sulla quale ci sono degli studi in Italia in verità un po' pochi sul quale non si è trovato ancora una convergenza su quella che è la densità diciamo accettabile in quanto alcuni studi in Italia poi Ronchi ci dirà diverso hanno definito un numero tra 3,5 e 4 quello in cui diciamo le persone che sono inglobate in una massa non si muovono più diciamo in maniera autonoma e quindi definisce un valore oltre il quale diciamo così diventa pericoloso l'assembramento stesso sempre Gabrielli parla di percorsi separati di accesso e deflusso parla di piani di emergenza e di evacuazione della suddivisione in settori dell'area con corridoi centrali e perimetrali disponibilità di squadra di operatori spazi riservati al soccorso spazi riservati di servizio e di supporto assistenza sanitaria adeguata impianti di diffusione sonorovisiva e eventuali divieti di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande questo il capo della polizia li indica per quanto attiene gli aspetti della safedi che abbiamo prima citato poi aggiunge anche degli aspetti di security riferiti diciamo alle forze dell'ordine che salto per brevità di tempo quello che però è importante è questo che le circolari successive del capo del dipartimento dei vigili del fuoco e del capo di gabinetto del ministro fanno non una rettifica ma interpretano in maniera intelligente la circolare del capo della polizia e dice attenzione che quelle misure però vanno adattate cioè va valutato il sito non si applicano quelle misure in maniera matematica in maniera meccanica ma ogni luogo deve essere valutato progettato e quindi quelle misure che il capo della polizia ha indicato essere adattate al luogo e alla manifestazione questo mi sembra importante perché con queste due circolari praticamente con queste ulteriori altre due circolari il capo del dipartimento di vicefuoco e il capo di gabinetto del ministro sostanzialmente rienterpetano quella circolare del capo della polizia dando sostanza alla valutazione valutazione che riguarda e poi l'ingegner Gianni ci dirà valutazione che è sempre presente nella normativa ormai quando si parla di sicurezza si parla di valutazione non si parla meccanicamente di numeri perché questo è scomparso dal piano normativo devo concludere in fretta datemi due minuti due e mezzo due e mezzo devo concludere con alcune riflessioni molto personali che quindi non investono chiaramente la carica che io ricopro noi siamo negli ultimi forse 15 20 anni abbiamo sempre parlato di snellimento delle procedure ecco questo è un tema è un tema che ci accompagna e quindi questo snellimento delle procedure deve accompagnare anche la nostra attività cercando di semplificare quanto più è possibile la vita al prossimo la seconda riflessione è un tema un po' delicato e su questo forse Ronchi ci può aiutare ma è quello dell'accettabilità del rischio l'accettabilità del rischio è un tema che è già scritto nelle norme ma è scritto in maniera implicita io è chiaro che se stabilisco che in questa stanza devo avere devo uscire di sicurezza e un muro di separazione re 60 ho fatto una diciamo definizione del livello del rischio e lo accetto ma dobbiamo fare un passo avanti lo dobbiamo esplicitare perché questo ci permette di capire se siamo sopra o sotto un livello di accettabilità e questo deve essere lo sforzo della comunità scientifica per esplicitare i livelli di rischio che come ho scritto se lo recupero sono già presenti in alcune parti della normativa italiana in particolare in un decreto sulle gallerie ferroviarie dove il valore di accettabilità è di 10 alla meno 8 c'è in quello delle gallerie autostradali c'è nel recente decreto di prevenzione incendi che noi abbiamo emanato con il 3 agosto 2015 quindi si tratta io direi che la comunità scientifica faccia un passo avanti e espliciti livelli di rischio ma soprattutto un altro invito devo fare a me stesso e a tutti noi è vero ed è necessario che vengano ricercati i colpevoli di reato e vengano puniti questo fa parte della legge e deve essere fatto però noi dovremmo fare anche un altro passo che forse è persino più importante perché punire i colpevoli è importante affinché ci sia un ordine nello Stato ma più importante è ricavare esperienza di quello che succede perché se noi non impariamo dagli errori che commettiamo e non ne facciamo tesoro non andiamo avanti allora se è vero che ci deve essere l'indagine bisogna fare insomma punire i colpevoli è vero anche che ci devono essere commissioni di inchiesta che ci devono essere gruppi di lavoro che gli ordini professionali tutti noi dobbiamo ricercare quello che non ha funzionato o che non funziona in occasione dei disastri che hanno colpito e colpiscono ripetutamente questa bella Italia per cui io vi ringrazio sono stato veloce perché questi sono tiranni e grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti